Buongiorno a tutti, da questa settimana, anche Milano è diventata zona rossa, però rimaniamo aperto con restrizione ovviamente, con la mascherina, cioè l'igienizzante e poi il nostro negozio è molto grande però capienza massimo 6 persone dentro, quindi teniamo la distanza ciascuno di noi e diciamo, cerchiamo di dare totale sicurezza a voi e anche a noi però se volete venire da noi a trovarci, cioè munite di autocertificazione oppure chi ha bisogno, noi mandiamo una certificazione come invito che noi vi mandiamo quindi contattateci tramite email info-nudocamera.it che vi mandiamo poi da questa settimana, da oggi abbiamo pensato una promozione per voi perché fate fatica a venire a trovarci, è giusto se non potete venire voi da noi, cioè veniamo noi a voi, nel senso utilizziamo corriere e non solo, abbiamo pensato riduzione di provvigione per conto vendita anche acquisto in contanti, cioè in contanti nel senso pagamento immediato anzi di chiedere 15% eccetera eccetera di provvigione per conto vendita 3 settimane andiamo avanti con solo 10% di provvigione mentre per acquisto diretto facciamo 20% quindi voi potete realizzare 90% di valore commerciale noi ci mettiamo che cosa? controlliamo bene ogni oggetto, funzionamento non solo, sanifichiamo pulizia, cioè proprio accurata del milino tutte le cose, non so, grip, esterno, facciamo tutto il controllo e pulizia e poi una volta preso in carico, logicamente viene registrato sul registro della questura di Milano e vendita pure anche vengono registrati ciò significa noi possiamo certificare che il passaggio di proprietà correttamente e legalmente eseguito e oltretutto garantiamo e quindi normalmente chiedevamo di essere garante per 6 mesi e per conto vendita però no, ci pensiamo noi saremo noi a proprio garante del funzionamento del materiale preso in conto vendita ok? poi mandateci il materiale vi mandiamo il corriere gratuitamente però anche questo non è per un tappo da 10 euro mandiamo, diciamo, corriere cioè no, prendiamo in carico no, no minimo, minimo facciamo 300 euro poi per la vendita quando acquistate il materiale da noi oltre 300 euro di spesa paghiamo noi le spese di spedizione gratuitamente sia materiale nuovo, conto vendita o materiale nostro di proprietà cioè qualsiasi cosa che compriate oltre 300 euro di spesa voi non pagherete spesa di spedizione ok? bene abbiamo pensato un po' di promozione per venire incontro cioè farvi restare a casa comodamente e questo è quello che abbiamo pensato per voi bene buona giornata grazie 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 grazie